oggi ho preparato per voi la ricotta con latte di mucca è fatta in casa con un procedimento semplicissimo basta avere uno stampino come questo e potete realizzare la vostra ricotta fatta in casa semplicemente con messier chiusi in connect o con messier chiusi in plus seguite il video e vi spiego ingredienti procedimento preparare la ricotta fatta in casa con il nostro messier chiusi in connect è veramente veloce ci sono pochissimi ingredienti basta infatti avere un litro di latte preferibilmente intero 3 cucchiai di aceto di mele oppure di succo di limone un cucchiaino di sale e uno stampo per ricotte andiamo a vedere com'è il procedimento per prima cosa mettiamo nel boccale latte e sale latte sale sono inseriti adesso impostiamo il robot per quanto riguarda i tempi imposteremo 15 minuti la velocità sarà velocità 2 e i gradi saranno 100 vediamo via il tempo è trascorso adesso dal foro del misurino andiamo a mettere i tre cucchiai di aceto o di limone ripeto dopodiché impostiamo il robot per sette secondi a velocità 8 quindi sette secondi velocità 8 vediamo il via ci dice ovviamente che è molto caldo diciamo comunque continua adesso non dobbiamo far altro che aspettare aspettiamo circa un'ora e vediamo il risultato dovrà essersi formato della ricotta che va in superficie che noi andremo a togliere con una schiumarola lasciamo comunque tutto nel boccale per circa un'ora è trascorsa l'ora di tempo andiamo ad aprire il boccale e vediamo il risultato questo è quello che troviamo all'interno come vedete io mi sono munita di una di uno stampino da ricotta e di un boccale all'interno del quale l'ho posizionato per farlo scolare meglio e di una cosiddetta schiumarola con la quale andrò a prendere quello che si è formato all'interno del boccale e non andrò a mettere nel mio stampo adesso ho tolto tutto dal mio boccale vado a mettere questo stampino in frigo e lo lascio circa quattro ore all'interno del frigo ci vediamo più tardi ecco la nostra ricotta tirata fuori adesso vi faccio vedere la consistenza della ricotta un cucchiaino la vado a tagliare vedete qui purtroppo sia un pochino rovinata perché l'ho tirata fuori in maniera troppo veloce dallo stampo e però se voi state molto attenti viene proprio una forma perfetta ecco vi faccio vedere la consistenza abbastanza soda lo devo dire si guardate in consistenza è molto simile a quella della ricotta comprata e il sapore assaggio è buonissimo spero che la ricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta vi invito a mettere un like questo video e vi invito a seguirmi sul canale in cucina come si è in più potete anche iscrivervi al nostro gruppo facebook messi e così in connette plus italia e seguirmi sul sito www.messiricette.it e buona ricotta fatta in casa per tutti deliziosa